Salve a tutti, in questo video vediamo come risolvere l'enigma del carillon del ripostiglio di casa Beneviento su Resident Evil Village. Dobbiamo scambiare questi cilindri in un ordine ben preciso, dato che se proviamo ad andare avanti, vedete, non funziona. Quindi state attenti perché adesso vi dico l'ordine esatto di scambio. Partiamo con il secondo cilindro, quindi selezioniamo il 2 e lo scambiamo con il primo. In questo modo. Poi andiamo al quarto cilindro e lo scambiamo con il secondo. Andiamo al terzo e lo scambiamo con il quinto. Infine di nuovo il terzo lo scambiamo con il quarto. Adesso proviamo a riprodurre il carillon e tutto funzionerà correttamente. Quindi si aprirà la vaschetta e potremo prendere le pinzette. Spero di essere stato utile, un saluto!